Si entra ancora adolescenti e si esce da giovani autonomi consapevoli delle proprie capacità e formati per le future sfide professionali sia in vari settori della vita civile che in quella militare. Questa scuola sembrerà una frase fatta ma è veramente una scuola di vita. Fino al 25 marzo puoi fare la domanda online per la scuola navale militare Francesco Morosini dove i migliori possono frequentare gli ultimi tre anni dell'Iceo Classico Scientifico. Collocata nella magica isola di Sant'Elena Venezia dagli anni 30 ha visto passare dai suoi cancelli molti dirigenti del nostro paese. Un luogo dove storia e modernità si coniugano sulla scia dei valori della tradizione marinara italiana. Un allievo del Morosini vuol dire innanzitutto spingersi oltre i propri limiti e abbandonare quella bolla familiare di protezione che avevi a casa.